Rappersville di là, Zurigo dietro di noi, questa discesa è meravigliosa e qua siamo davanti a Puffikon Wow Mi sa che con le salite abbiamo finito per oggi Wow Vamo là se non siamo a Puffikon 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 Perché avevamo messo le linee tratteggiate test di cazzo Puffikon 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 Il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.